Ornella Vanoni è la protagonista del giorno al podcast di Gianluca Gazzoli dove si è raccontato in una lunga intervista. La leggendaria cantante italiana ha parlato anche della depressione ammettendo di non aver mai voluto pensare al suicidio. Ho avuto più di una depressione, mi sono curata e continuo a curarmi. C'è chi si ammazza, chi sopravvive. Io non ho mai pensato ad ammazzarmi, ho sempre voluto vivere. Le droghe leggere, uso il fumo come medicina, non lo uso durante il giorno. Io prima di dormire devo fumare una canna o due altrimenti non mi si spegne il cervello. Da 50 anni vado avanti così, se no non dormo. Poi la battuta, avevo detto che mi sarebbe servito una badante che rolla. Non ti dico i ragazzi, signora non ho lavoro ma rollo da Dio.